E' una regola. Ehi, 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 che ne dite di occuparci del mio modio? E' un consiglio, avrei bisogno delle taglie delle stigioni. E' una 40, e' una 30, no? Ah, scusate. Ma senti, che mi va bene? Non credi che forse stareste più comoda in una... Guarda, no, tutto sotto controllo. Faccio il digiuno del dottor Riverbend. Oh, era sì. E cos'è quello? Ah, acqua, tecchina, mele, grasina di testa, è stato di scuola e sarebbe in etica. Ma ha qualcosa da mangiare? Senti, sarò una vera dea, con quel vestito, e con giovanello scozzese che mi farò molto felice. E' un'altra volta, ricevuto. E la tua taglia, d'angelo ad onore? Non lo so, e tu che taglia di sospenso... Guarda, non mi sto a fare questo d'altro! Scusate, volete pensare tanto? Lei è felice, quindi, fatelo per Anna. Cerchiamo di andare d'accordo con un verso riservato e fingiamo che sia tutto perfetto. E' così dolce. Certo, dolce. E' davvero bene. Ma stai toccando? Ma lei è quasi a fare il cazzo... Sì, è visto? Chi è lo sposo? Tom. Sì? Chiedi. Che cos'è? E' una che organizza feste. L'ho usata anche di matrimonio della sorella di Stefania, a me è piaciuta. Legge i tarocchi. Ma è un'idea, grazie mille. Non lo faccio, perché lo faccio per Anna. Ok. Grazie. Davvero? Ti saranno dopo la domanda. Ok? Ciao, ciao. Ciao, è stato un piacere. Mi piacere tutto. C'è, io ho avuto un attimo di intimità con Melissa. Devo chiederti un favore? Sì. Mia madre e mia mamma domani arrivano in città. Abbiamo tantissime cose da fare. Mi domando se tu e i tuoi amici potete intrattenere Colli per la giornata. Intrattenerlo? Sì, così vi conoscete, famigliarietà. Certo. Sei l'angelo? So.